È stata una partita molto complicata contro un avversario, secondo me, forse la migliore che abbiamo trovato finora, che ci ha messo in difficoltà, ma l'unica cosa che oggi contava era la vittoria, quindi torniamo a casa quei tre punti e siamo contenti. Non è stato un Bari bellissimo, è stato più bello quello di Verona, però molto cinico. Sì, diciamo che a Verona potevamo portare a casa dei punti, non ci siamo riusciti, oggi è stato un un Bari bellissimo da vedere, però alla fine quello che contava era prendere i tre punti e ce li siamo andati a prendere, alla fine quello che conta poi era la vittoria. Il mister Colantuono ti ha dato fiducia, tu hai ricambiato questa fiducia, però ha detto non scrivete tanto su De Luca perché non si deve montare la testa, non ha fatto niente. Ma no, c'ha ragione, nel senso che devo continuare a lavorare, devo sempre comunque migliorare su tanti aspetti e niente, sono pagato per far gol, quindi nel senso che quando posso faccio gol, quindi va bene così per ora. Meno male che avevi la canottiera sotto la maglietta, se no ti saresti tolto tutto. Sì, no, è stato, diciamo che ho fatto un po' una stupidata perché comunque poi ho preso il giallo, quindi non era una cosa da fare, però era una cosa che mi sentivo di fare, l'ho fatto al momento e meno male che poi non ho compromesso la partita. Soprattutto l'hai fatto di fronte a quasi 19.000 persone che è il record stagionale per il Bari? Ma ci tenevo a fare bene, quindi sono perduto a segnare, quindi sono contento, ma ripeto, se non facciamo risultato a Piese poi non aveva fatto niente, quindi questa è la cosa più importante.